Ciao ragazze, nella stagione 2019-2020 anche il Divine è leggermente cambiato, si è rifatto un pochino il look, diventa più robusto sicuramente con l'introduzione di una capsula di gomma frontale ed una struttura di rigidimento, irrobustimento posteriore per evitare il consumo precoce dovuto agli attacchi. Guadagna una ghetta in neoprene all'altezza del piede per evitare che la neve morbida, la neve bagnata si trasformi in acqua e vi possa bagnare appunto il piede. È una scarpa di Gamble Mountain, veramente alta, una scarpa precisa per completare un setup definitivo, un setup per rider esperte che insomma sanno quello che vogliono e dalla loro attrezzatura. Ha uno scafo con un tipo di allacciatura super lace, quindi la parte del vostro collo del piede e della vostra tibia saranno gestite separatamente da due lacci, questo per ottenere un livello di customizzazione altissimo, unito alla scarpetta TF3 che al di là dell'imbottitura che è veramente comoda e calda, ha un livello di termoformatura molto alto, completa la customizzazione, la customizzabilità e la possibilità di adattamento di questo scarpone portandolo a essere assolutamente personalizzabile sul vostro piede. Quindi scarpone comodissimo e veramente caldo. La suola Stamina è una suola molto ammortizzante che isola molto bene sia dal freddo della neve sia dagli urti, dai colpi, rendendo il vostro riding estremamente morbido, molto molto comoda e con inserti in gomma con un alto grip, quindi scivolate sul ghiaccio proprio evitate nella maniera più assoluta. È una scarpa quindi che si adatta, si prepone l'obiettivo di completare un setup avanzato, un setup evoluto, una scarpa con un ottimo sostegno sia in pista che in fuori pista, che magari sulle strutture quando appunto diciamo viene richiesto un sostegno e una precisione aggiuntiva. È molto molto comoda, molto calda, quindi secondo me è una scarpa all mountain di fascia alta assolutamente da consigliare. Se siete incuriositi da questa scarpa e volete sapere di più scriveteci qua sotto nei commenti, sui nostri canali oppure sui social o per email. A presto! Boom!